La Chiesa calabrese ha bisogno di una pastorale sinodale perché molto spesso brilla per l'individualismo e l'autoreferenzialità. La mentalità mafiosa attecchisce soprattutto lì dove ci sono individualismo, particolarismi, interessi individuali e familiari che sono slegati dal bene della comunità. Lo ha detto Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Oionio, intervenendo alla Mezzia a una tavola rotonda a dieci anni dalla visita di Papa Francesco in Calabria. Per il pastore, se vogliamo fare un favore all'andrangheta, dobbiamo fare una pastorale basata sull'individualismo invece che sul camminare insieme. Il problema della Calabria, proseguito il presule, è culturale ed antropologico e per questo la pastorale deve incidere, graffiare le coscienze e portare a ripensarsi in maniera diversa, andando oltre ogni atteggiamento di omertà, di silenzio complice e di contiguità. Evocando il tema della conversione pastorale, il presule Cassanese ha offerto come pista di riflessione anche l'iniziazione cristiana, dove la centralità non deve essere sul bambino, ma la famiglia. Per Monsignor Savino dobbiamo fare un vero e proprio trasloco della pastorale, perché la società non è più cristiana. Grazie.